Migliaia di veicoli sono rimasti bloccati per 18 ore in Spagna sull'autostrada AP6 a nord di Madrid, a causa di una forte tempesta di neve. Lo riporta il Paese. Dopo l'intervento dei servizi di emergenza, la strada stata riaperta parzialmente. Secondo la Societ che ha in gestione l'autostrada, il blocco è stato causato anche dal fatto che molti veicoli viaggiavano senza attrezzatura da neve. E questo ha reso difficile l'accesso ai soccorsi.